Benvenuti di nuovo in Toscana, ci troviamo davanti a Marina di Puntala in questo paesaggio stupendo, qui abbiamo i tre porcellini, lì lo scoglio dello Sparviero e giù in fondo l'Isola d'Elba. Siamo venuti qua per girare una nuova puntata della rubrica sì e no. In questa rubrica noi mettiamo a confronto un'imbarcazione con i modelli della concorrenza. Siamo venuti qui ospiti della Resnautica, uno dei maggiori importatori della Fontaine Pajot in Italia, loro hanno tutta la zona del Tirreno e delle isole e sarà proprio l'amministratore di questa società Giovanni Tarantino a illustrarci l'imbarcazione e a rispondere alle nostre obiezioni. Ciao Giovanni, grazie mille di essere venuto e grazie come sempre di tutta l'organizzazione che ci ha messo a disposizione. È un piacere. Giovanni, prima di iniziare i punti, abbiamo cinque punti da discutere, ti chiederei di chiarirci una cosa, questa imbarcazione non è il refitting del Lucia 40? No, questa è una nuova imbarcazione, si vede subito dalle prue rovesce come tutti i modelli della gamma Fontaine Pajot, quindi la prua su Lucia era più avanti, ora in realtà è rovescia. Gli scafi hanno più volume nelle cabine di prua, quindi più volume a prua e abbiamo anche la cabina a marinaio. Che prima su Lucia non c'era, per cui effettivamente è una barca proprio con degli scafi diversi. Giovanni ha accennato alle prue rovesce o reverse, questo tipo di prua che consiste nel fatto che la parte bassa della prua è più avanti, leggermente più avanti della parte alta. In un catamarano come questo, un catamarano da navigazione ma comunque da crociera, non ha un significato tecnico molto preciso, però sicuramente offre un bellissimo effetto estetico e ricorda i multi-scafi da regata. E adesso io passerei al primo punto, abbiamo 5 punti da discutere. Qual è il primo punto che vuoi portare all'attenzione dei nostri video spettatori? La rete. La rete, perfetto. Cosa ci dici sulla rete? Perché non tutti i catamarani hanno la rete. Confermo, non tutti i catamarani ce l'hanno, il vantaggio è il Bali Cat Space che qui la rete non ce l'ha, c'ha tutto quanto chiuso e c'ha un pozzetto con divani, tavolini. Perché voi avete la rete? Perché è un catamarano, il catamarano deve navigare, deve navigare in sicurezza. Quando abbiamo mare di prua, mare formato, grandi onde, la potenza del mare e delle onde tonnellate di acqua, qui riescono a scaricare fuori, passano attraverso la rete, passano attraverso la rete, danno una sicurezza nella navigazione. Il catamarano non è fatto solo per stare in rada come noi adesso, è fatto per navigare. Fontampageau punta alla sicurezza. Ho capito, per cui avete scelto di avere la rete. Comunque la rete è calpestabile, ci si può stare, ci si può sdraiare, come per chi ha tutto chiuso, però è più sicura nella navigazione. Ho capito, perfetto. E direi che a questo punto andiamo a vedere il punto numero due. Punto due, la plancia. Fontampageau fa questo tipo di soluzione con la plancia alta, tutto un pozzetto qui, un punto di manovre concentrato con tutti i winch, manovre del motore, pilota, GPS e comunque un grande volume. Quindi riesciamo ad avere un'altezza utile da vedere la prua di sinistra, la prua di destra, la poppa di destra e abbassandosi leggermente anche la poppa di sinistra. Per cui è una visione a 360 gradi. Confermo, 360 gradi. Ma anche il Lagoon 40 però ha una plancia di questo tipo. Sì, il Lagoon 40 ha comunque, come noi in questo punto qui, la differenza del Lagoon 40 che noi c'è più volume. Anche se si dovesse timonare in due persone o più persone, comunque c'è più spazio noi. Rispetto ai più, abbiamo questa scala che gli altri non hanno che per accedere velocemente alla randa o comunque per accedere velocemente alla zona prendisole, gli altri hanno la scaletta a prua. Invece per quanto riguarda la visibilità, noi abbiamo il Nauticat 40 Open che ha addirittura due timonerie, una per scafo. Quando io sto là sotto la mia visibilità, specialmente verso poppa, è perfetta proprio. Confermo, loro hanno fatto questa scelta della doppia timoneria, però è una timoneria bassa. Se dovessimo navigare in rada sotto costa, vicino ad altre barcazioni, non riescono a vedere contemporaneamente la zona di sinistra e di destra. Noi dall'alto riusciamo a vedere tutto. Ah, tu mi dici se io navigo in una rada dove ci sono delle persone che stanno facendo il bagno, non le tengo sotto controllo. Il Sufond Tampagio riesce a gestire meglio, così anche quando si fa una manovra in porto. E adesso andiamo a vedere il punto numero 3. Punto 3. La Tuga e il Boma. Cosa mi dici della Tuga? La Tuga ha il vantaggio, avendo le scalette, salendo qua sopra, spostando eventualmente il trasto di aranda tutto da un lato, quando siamo in rada abbiamo un'enorme zona prendisole per tutto l'equipaggio. C'è un catamarano, il solito Bali Cutspace, che lì ha proprio un vero e proprio pozzetto. Vedo che ti piace il Cutspace. Loro hanno effettivamente un grande pozzetto ed è vero. Purtroppo hanno dovuto però prendere il Boma, alzarlo a due metri, due metri e mezzo di altezza, cosa noi invece abbiamo una facilità e una sicurezza nell'aprire e chiudere la randa, mani in terzarola e tutto. Loro devono arrampicarsi due metri, due metri e mezzo sull'albero oppure andare a mettere o un rolla boma o un rolla randa. Noi invece abbiamo il vantaggio di avere la barca completamente sicura in qualsiasi condizione. Perciò è un'altra volta una questione di sicurezza. Confermo. Perfetto. E andiamo a vedere il punto numero 4. Punto 4. L'albero. L'albero nel DNA delle barche a vela sta nella giusta posizione, a prua via. Altri devono metterlo a poppa via, noi riusciamo a metterlo nella giusta posizione perché il catamarano Fontampageot è costruito con più tecnologia, ha il sandwich dello scafo e le paratie in composito. Anche le paratie in composito. Anche le paratie in composito. Questo permette di avere la barca più leggera. Più leggera significa che la prua della barca non si ingavona quando c'è mare di prua e quindi possiamo avere l'albero nella giusta posizione. Il boom è molto lungo, quindi grande potenza di randa, randa padrona. Il vero motore è la randa, quindi abbiamo più potenza quando si va a vela di altri catamarani. Però, di contro, la vela di prua, se metto un autovirante, è piccolissima. Appunto, noi non abbiamo l'autovirante, ma abbiamo il Genova più grande, addirittura con le rotaie regolabili, quindi nelle andature dove il catamarano soffre, quindi nelle andature di bolina, avere un Genova più grande fa sì che comunque ti aiuta in quelle andature lì. Quindi non abbiamo bisogno di andare a motore anche con poco vento, perché avendo un Genova grande, molto sovrapposto rispetto alla randa, e la randa padrona grande, fa sì che il catamarano Fontampageot a vela va anche con poco vento. Senti, però ci sono altri che hanno fatto delle scelte completamente diverse. Il Lagoon 40 ha scelto di mettere l'albero molto indietro. Non è una scelta, è una scelta. È stato obbligato, per discorso che dicevo prima, di pesi. Tra noi e il Lagoon 40 c'è differenza di peso sostanziale nello scafo per il tipo di laminazione e di costruzione. Quindi loro, per poter avere le prue più fuori dall'acqua, hanno dovuto prendere tutto il baricentro dell'albero e spostarlo verso Puppa. Quindi i pesi hanno cercato di portarli verso Puppa. A noi vedremo dopo dentro che l'albero, il puntale di rinforzo che c'è dentro, l'altro, noi ce l'abbiamo in una zona che non dà fastidio, gli altri ce l'hanno in mezzo alla dinette. A questo punto andrai sotto coperta a vedere questo discorso del posizionamento del contralbero. Andiamo, grazie. Noi abbiamo il puntale dell'albero molto a prua, quindi il rinforzo anche dentro la dinette è molto a prua e ha tutto libero la dinette, non come altri che hanno il palo qui nel centro. Tu mi stai parlando del lagoon 40 che ha il contralbero qua. Lo affermo, il lagoon 40 ha... E anche questa volta non hai perso l'occasione di essere cattivo. Il cavo di estolo è un po' meno cattivo. Va bene. E adesso quindi andiamo a vedere il punto numero 5. Punto 5, la dinette. Cosa mi dici della dinette? La prima cosa che possiamo vedere nel DNA di tutti i Fontaine Pajot è questa grande apertura che unisce il pozzetto con gli interni della barca. Gli interni, come potete vedere, sono molto luminosi e noi siamo gli unici ad avere un grande oblo, però una grande presa di luce all'alto della tuba. Questa volta confermo io, è vero, siete gli unici ad avere una cosa del genere che dà veramente tanta luce agli interni. Poi abbiamo abolito la zona carteggio, quindi al posto del carteggio che era nell'uscita 40 c'è un vano in più per il frigorifero, un appoggio per il materiale e una chaise longue che prima non ci avevamo. Che è molto comoda. Ma soprattutto Fontaine Pajot sull'isla 40 ancora una volta ha aumentato il suo livello di rifiniture, di qualità, di materiali all'interno di un catamarano. Questo è vero, la barca quando sono entrato oggettivamente è molto bella, ma io pochissimi giorni fa ho provato il Lagoon 40, stavamo a Maria Cala dei Medici e devo dire che anche quella è una bella barca. Confermo che sia una bella barca, ma non vedrai mai delle raggiature nel Corian, della qualità nei materiali, nelle raggiature dei mobili che può avere un Fontaine Pajot. La qualità nostra, il livello nostro è sempre una ricerca di prodotti migliori, di qualità migliori, di materiali migliori. Ma il Lagoon sicuramente una cosa ce l'ha, ha un prezzo più basso. Confermo, un cliente Fontaine Pajot è un cliente che vuole andare a vela, un cliente che vuole una barca comoda, sicura, performante, ma anche con delle rifiniture di un certo pregio. E con questo credo che abbiamo analizzato tutti e cinque punti che Giovanni ha voluto proporci. A questo punto io saluto e ringrazio Giovanni Tarantino per la pazienza che ha avuto con noi, per tutta l'organizzazione che ci ha messo a disposizione. Vi ricordo che la Resnautica è l'importatore Fontaine Pajot per tutto il Tirreno e le isole. Potete contattarla a www.resnautica.it Vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di mettere il vostro like in modo che noi possiamo saperlo e dal momento che ci siete iscrivetevi al canale in modo che il prossimo video che noi pubblichiamo voi potrete esserne informati. E con questo non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solo Vela Net.